Salve a tutti, in questo video superiamo il sacrario di Susu Yai. Cominciamo subito. Per prima cosa abbiamo già subito il baule e lo prendiamo con il reverto, bloccando semplicemente e temporaneamente la piattaforma, però ecco quando siamo vicini. Quindi rifacciamolo. Ora. Ok. Aperta. E questa ce la siamo tolta. Perfetto. Andiamo avanti adesso e con l'ultra mano cerchiamo di afferrare uno di questi cosi, altrimenti lo dobbiamo ricostruire da capo con i materiali che stanno davanti, ma io consiglio di far così, facciamo prima, molto prima. Quindi lo prendiamo e lo andiamo a posizionare contro il muro, perché altrimenti poi andrà via, vedete, è ancora acceso. Lo andiamo a spegnere con la spada, lo riprendiamo e lo giriamo in modo che sia davanti al rullo, in questo modo. Ok, quindi lo abbassiamo, andiamo sopra, lo attiviamo e questo ci permetterà di andare dall'altra parte. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo girare la ruota, che sta qui. In questo modo. Si aprirà tutto, ma si chiuderà, è normale, però dobbiamo dargli questo movimento, perché poi subito noi adesso utilizzeremo il reverto per far riavvolgere il tempo. Ecco qua. Quindi adesso la porta si aprirà. Andiamo via. E ci siamo. Bene, non ci resta che prendere questa ruota qui a sinistra. Girarla. E metterla sopra il binario. Questo. Da questa parte facciamo collega. Perfetto. In questo modo adesso dalla piattaforma andiamo a scoccare una freccia, che attiverà il tutto, e la ruota spingerà il meccanismo portandoci dall'altra parte del sacraria, quindi ci permetterà di andare a completare tutto. E spero di essere stato d'aiuto. Ci vediamo al prossimo video.